Sotto le mura di Troia, a combattere una guerra che poi non avremmo più dimenticato, arrivarono tutti i grandi re e principi della Grecia. Sono nomi che conosciamo, sono eroi di cui ancora oggi noi tramandiamo le gesta. Solo uno è sprofondato nell'oblio e il suo nome, che ormai è ricordato da pochissimi, è sparito dalla memoria collettiva. Il suo nome era Palamede. La cosa è curiosa perché Palamede non era uno qualunque, era uno molto noto, lo conoscevano tutti, era molto amato per il suo carattere, la sua virtù, la sua bellezza anche, era ricordato come uno dei più belli dell'esercito greco. Era anche immensamente ammirato per la sua intelligenza, lui era riconosciuto come uno degli inventori, anzi l'inventore di un sacco di piccole e grandi cose che avevano cambiato la storia della Grecia. Era oltretutto un uomo di potere, vero e proprio, era uno dei tre comandanti dell'armata di terra dei greci. Gli altri due per dire erano Odisseo e Ajace, nomi che noi conosciamo benissimo, nomi di grandi eroi. Ma il terzo, Palamede, perché lui non lo conosciamo? Perché il suo nome no? Una risposta, noi l'abbiamo, è semplice, molto chiara. Omero non parlò mai di lui, non c'è un solo verso dell'Iliade o dell'Odissea che citi il nome di Palamede. La domanda allora diventa un'altra, anche più affascinante. Com'è possibile che quella splendida storia che ci ha raccontato la guerra di Troia si sia presa la briga di nascondere e cancellare un eroe fra i tanti, uno solo, è proprio lui, Palamede. Non è che ci siano delle ragioni apparenti, non si riesce a trovare una logica, sembra un enigma e lo è in un certo senso. Per scioglierlo quello che possiamo fare è ricorrere alle altre storie che noi abbiamo della guerra di Troia. Ce ne erano molte, in un certo senso sono storie che stanno alla guerra di Troia come i Vangeli apocrifi stanno alla vita di Cristo. Sono storie che poi una certa ufficialità ha deciso di escludere, di cancellare, di non ritenere sufficientemente autorevoli, forse contenevano delle falsità, ma è anche possibile che contenessero invece delle verità, e delle verità scomode o impronunciabili. Noi le conosciamo quelle storie, è una cosa molto chiara, che quelle storie Palamede se lo ricordavano molto bene. Non solo, ma pensavano che solo conoscendo la vicenda di Palamede uno potesse capire cos'era successo veramente sotto le mura di Troia. Sono storie che vengono da molto lontane, poi spesso scomparse, rimbalzate nel tempo, nei secoli, riprese, tornate in superficie, citate da altri, tempo, tempo dopo. I loro autori non sono spesso famosi, per dire uno dei resoconti su cui noi ci possiamo basare l'ha scritto un cosiddetto Ditti Cretese, un signor Ditti di Creta, che sosteneva di aver combattuto la guerra di Troia e quindi la raccontava. Probabilmente era una menzogna, facilmente era una patacca scritta tempo dopo, ma le patacche sono importanti e sono dei grandi contenitori in cui si vanno a rovesciare tutti i rumors, le voci, le storie che la gente si era passata comunque per molto tempo, di bocca in bocca, e che non erano le storie ufficiali, ma che la gente non voleva dimenticare. Ditti Cretese 1 ce n'era un altro che era Frigio, da rete si chiamava, un altro che ha raccontato la storia della guerra di Troia, immensamente meno noti di Omero. Altri un nome ce l'avevano, Pausania, Filostrato, Apollo d'Oro, sono autori a cui noi dobbiamo molte schegge della storia greca. Un sofista, grandissimo sofista, filosofo, uno degli inventori della retorica, si chiamava Gorgia, Gorgia Dalentini. Lui addirittura si spinse a scrivere un discorso di Palamede, un discorso che Palamede avrebbe tenuto in pubblico in sua difesa. Non solo la memoria dell'eroe, ma la sua voce ricostruita. E poi Platone, in alcune pagine, un verso di Virgilio, anche lì è ricordato Palamede, delle citazioni di Cicerone. Come vedete, storie che vengono da lontano, hanno fatto anche una strada misteriosa, spesso sono scomparse per secoli, poi ricompaiono nella citazione di Uno, molto tempo dopo, ma non hanno mai smesso di raccontare questa storia, la storia di Palamede, una storia che invece una certa elite intellettuale aveva deciso, per qualche ragione, di cancellare, di spegnere, di nascondere. E questa è la storia che questa sera racconteremo qui, in un teatro, e quindi nei modi del teatro. Lo facciamo perché è bello, lo facciamo per il piacere di sottrarre quel personaggio e la sua storia, dall'obbrio. Grazie a tutti. Adesso, adesso volete sapere di Palamede, troppo tardi, l'hanno ucciso, l'abbiamo ucciso. Al processo si difese da solo, si presentò bellissimo, lui era il più bello, gli occhi grandi, i più grandi tra tutti gli occhi di uomini, feroci in battaglia, li poteva vedere da lontano, ma da vicino dolcissimi. Eh, al processo si difese da solo. Non di vita o di morte si discute in questo tribunale. Qui si decide di qualcosa che ha a che fare con l'onore e il disonore. Parole che non abbiamo dimenticato, eh. Ehi, la voce fermissima, calda, lontana. Tradirvi. Voglio dimostrarvi che se avessi voluto farla non avrei potuto. E se avessi potuto non avrei voluto. L'abbiamo ucciso lapidandolo. Non è una bella morte. Si faceva fatica a riconoscerlo dopo. Il corpo nudo che era stato elegante, ammirato, perfetto. E adesso volete sapere chi era Palamede? Io ve lo dico. Un genio. Sì. Fu l'unico tra gli eroi ad andare alla guerra da solo. Senza portare soldati. Mani vuote. Senza offrire neanche una nave, no? Vorrete sapere perché. E portavo in dono a se stesso, questo bastava. Il suo cervello. Ehi. La lista. La lista. Apri, apri. Lista delle invenzioni che Palamede, figlio di Nauplio, discendente di Poseidone, donò alla Grecia perché grande fosse la sua ricchezza e immenso il suo potere e in peritura la sua gloria. Anche in più. Ogni macchina da guerra che il cervello umano possa immaginare. Fortificazione nei porti, palizzate, i fuochi per comunicare dalla punta delle colline, l'arte di deviare i fiumi e ridisegnare la terra, l'organizzazione dell'esercito, il trucco della parola d'ordine, la disciplina delle sentinelle e persino il gioco degli scacchi che allontana dai soldati la noia, la nostalgia, la paura. Ma anche le regole per mangiare bene, per bere senza perdere la coscienza, per guarire le malattie, per allontanare le epidemie e i pesi per regolare i commerci e le misure per misurare il mondo e le stagioni, i mesi e gli anni per contare il tempo. Di tutto questo fece dono Palamede, figlio di Nauplio, alla Grecia è tuttavia neanche una di queste invenzioni può valere il dono più grande che lui seppe fare a noi, ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, il frutto più raro della sua intelligenza, l'arma che avevamo perso e che non potremmo più perdere, la più affilata delle lame, lo scudo più grande, la nave più veloce, la divinità più potente, l'unica ricchezza, la forza più impalpabile e definitiva. Questi segni, che sembrano orme, le leggi per metterle insieme i suoni, per farle suonare, abbiamo mandato a morte un uomo che per noi aveva inventato la scrittura, eravamo ciechi e sordi, lui aveva dato un nome a tutto e noi lo abbiamo ucciso a colpi di pietre. E rimase lì ad aspettare il supplicio senza lamentarsi, senza implorare, disse soltanto a bassa voce, ho pietà di te, verità, tu sei morta prima di me. L'accusa era di tradimento, la peggiore, lì, avevano trovato dell'oro nella tenda, una cosa del genere, forse un messaggio, c'erano tante voci strane, si diceva che fosse d'accordo con i troiani, addirittura che stesse preparando una sommossa per rovesciare Agamennone, ma c'era una mano astuta che guidava tutto questo, era un lavoro ben fatto da chi odiava Paramede e lo temeva. Odisseo. Lista delle invenzioni che Odisseo, figlio di Laerte, protetto di Atena, donò alla Grecia perché grande fosse la sua ricchezza, eccetera, eccetera, eccetera. Il cavallo di legno, fine. Eh, Odisseo, voi neanche potete capire chi era. Sì, sì. Abilissimo nel parlare, sempre falso, amante della malignità e dell'invidia. Gli occhi svagati, rapiti da certi pensieri, sospetti, meno coraggioso di quanto facesse apparire, poco abile, in guerra, mediocre, a tendere l'arco e a lanciare il giavellotto. E la storia dell'aratro, la storia dell'aratro è inventata ma spiega molte cose, eh. Vanno a prenderlo per portarlo alla guerra. E lui, Odisseo, si finge pazzo, si fa trovare mentre ara la sabbia in riva al mare, si spinge l'aratro gridando frasi senza senso. Allora uno degli ambasciatori prende suo figlio, il piccolo telemaco, e lo mette lì, lo poggia sulla sabbia, proprio davanti all'aratro. E Odisseo si ferma, capisce, guarda l'ambasciatore, abbassa lo sguardo, lascia l'aratro e parte per la guerra. Chi era l'ambasciatore? Alamede. E' così, si dice che da lì cominciarono a odiarsi quei due. Non lo so, ma erano destinati a odiarsi, no, perché questo va capito, eh. Perché Agamennone era il potere, Achille la forza, Nestor la saggezza, aiace il coraggio, ma l'intelligenza, il genio, il cervello, l'astuzia. Erano di Odisseo e Palamede. E quando si è in due in questo genere di cose c'è sempre uno di troppo. E prima o poi uno avrebbe eliminato l'altro, no? Vince il meno nobile, il meno amato, il meno intelligente, ma il più astuto. Telemaco. Parto a casa il bambino, va? Un giorno il sole si oscurò. Un segno nefasto che da sempre terrorizzano i soldati. Non volevamo sapere di combattere. Ma Palamede ci spiegò. Ci disse che il sole si oscura semplicemente quando la luna gli passa davanti. E ci disse che non dovevamo prenderlo come un presagio di sventura. A questo ci avrebbero già pensato i troiani nella loro ignoranza. Ragione di più per scendere in battaglia quel giorno e approfittare della loro paura. Tutti ascoltavamo improvvisamente rassicurati. Allora si alzò, disse, furibondo, cominciò a gridare. Palamede, quel che succede in cielo non lo devi dire tu, ma Zeus, che il cielo ha scoperto e che al cielo ha dato un ordine. Diresti meno sciocchezze se badassi alle cose che accadono in terra, anziché cavillare su quello che accade in cielo. E rideva in quel suo modo triste, cattivo. Allora Palamede gli si avvicinò e tutti sentimmo quello che gli disse. Disse, se tu fossi davvero sapiente, Odisseo, sapresti che è proprio studiando la terra che si impara il cielo. Non è una cosa questa che voi di Itaga potete capire. Si dice che neanche conosciate le stagioni tanto poco imparate dalla terra. Via, 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 via. Odisseo scivolò via sotto lo sguardo di tutti e l'odio, potevi vederlo addosso a lui, un odio immane. E non fu l'unica volta. Quei due si scontravano sotto gli occhi di tutti e Odisseo usciva quasi sempre umiliato. Sì, tante volte, neanche me le ricordo, tante. Quella dei lupi, certo, quando i lupi scesero dalla montagna come un flagello del Dio. No, non è un flagello, disse Palamede, è un dono del Dio. Ma che dono è dono, se la rideva Odisseo e si affrettò ad armare degli uomini perché andassero ad ucciderli. No, non uccideteli, sono un dono, ripeteva Palamede. Annunciano la peste. Scendono dalla montagna e attaccano gli uomini e le bestie. È in questo modo che il Dio ci avverte. Ora sta a noi combattere la peste. Lasciamo i lupi facciano il loro lavoro e noi piuttosto difendiamoci dalla malattia. E ci disse anche cosa dovevamo fare. Voleva che nessuno di noi mangiasse più carne. E ci spinse a salire sulle navi e a remare fra le onde fino alla stanchezza. Perché è il mare e il movimento che ci potevano salvare. La peste si prese tutta la regione Ilio compresa. Morivano uomini e bestie ma noi non morivamo. La peste ci scivolò sopra. Eh, la fama di Palamede cresceva. L'odio di Odisseo con lei era una specie di lungo duello ma senza armi. O forse con l'arma più affilata e mortale. L'intelligenza, il sapere. Li vedevamo duellare ferocemente quei due e pensavamo che non sarebbe mai finita. Ma finì. Avete ucciso, avete ucciso Danai, il più sapiente lusignolo delle muse che non faceva del male a nessuno. Quello che fece Odisseo fu convincere Agamennone che Palamede e Achille avevano in mente di rovesciare il suo potere e sostituirsi a lui. Ma non era insensato. Quei due erano amici, erano cresciuti insieme alla scuola di Chirone. L'esercito li amava sicuramente più di quanto non amasse Agamennone. E per il re dei re, quei due rappresentavano una spina nel fianco. Odisseo suggerì di mandarli lontano a fare bottino. Anche questo era logico, i due combattevano sempre insieme, erano perfetti. Achille, rimpetuoso, pazzo e Palamede, saggio, intelligente. Insieme erano imbattibili. Li spedirono all'isola di Lesbo, a conquistare l'isola di Lesbo. Ma quando ancora l'assedio non era finito, richiamarono Palamede. Solo lui. Ma perché di Achille avevano paura e li volevano comunque dividere. E così Palamede tornò da solo e quando arrivò al campo si trovò addosso questa accusa di tradimento. L'aveva naturalmente ordita Odisseo con la sua consueta astuzia. L'aveva fabbricato delle prove false. E dimostravano che per denaro Palamede aveva venduto un piano agli troiani per entrare nell'accampamento degli Achei. Al processo Palamede si difese abilmente, ma troppo tardi. Il verdetto era già scritto a nessuno dei giudici. Se per ribellarsi all'autorità, Dio disse a Gamennone. Quando Achille tornò vittorioso, Palamede era già morto. E c'era anche un editto di Gamennone che impediva a chiunque di seppellire il cadavere. Doveva essere lasciato lì, abbandonato ai cani e agli uccelli. Achille ne fu sconvolto. E questa, ascoltatemi bene, questa fu la vera ragione della sua ira. Certo, certo, la divisione del bottino, Briseide, Criseide, c'era anche quello. Però la vera ragione fu che avevano ucciso il suo amico Palamede. E lo avevano fatto ingiustamente. Achille non vado all'editto. Prese il corpo dell'amico e lo seppellì. Poi lo ritirò dall'esercito i suoi mirmidoni e si chiuse nella sua tenda, abbandonandoci al nostro destino. Cantava. Con la sua lira un ode all'amico assassinato. Cantava. Senza riposo. Il proprio dolore e la propria sconfitta. Adesso. Adesso volete sapere di Palamede. Troppo tardi. L'hanno ucciso. L'abbiamo ucciso. Qui fu un poeta. Si chiamava Omero. Conosceva i nomi. Sapeva di ogni impresa. Aveva girato tutte le città della Grecia raccogliendo storie di quella guerra. Quando ancora era possibile averne un ricordo. Ma anche apprese molte cose in un altro modo divino che va oltre la sapienza. Si dice che un giorno si imbarcò per Itaca e aveva udito che lì dimorava ancora l'anima di Odisseo senza riposo. Quando giunse laggiù la evocò dal regno dei morti e Odisseo ritornò in terra. Allora il poeta gli chiese di raccontare quello che aveva visto sotto le mura di Troia. E lui diede una risposta in cui non è difficile riconoscerlo. Odisseo disse Promettimi che nel tuo poema celebrerai il mio valore. Io ti racconterò tutto. E il poeta glielo promise. E lui cominciò a parlare. E tutto disse secondo verità. Perché le anime non possono mentire. E quando il poeta si era già allontanato e lui aveva finito. Odisseo cominciò a gridare Palamede! Non raccontare di Palamede! Ho agito ingiustamente con lui e ora temo che chi amministra la giustizia qui sarà severo con me. Il supplizio mi aspetta. Ma se gli uomini sulla terra non sapranno quello che ho fatto a Palamede la pena qui sarà meno dura per me. Non portare Palamede a Troia, poeta. Non fare di lui il guerriero che era. Non raccontare della sua sapienza. Lo faranno altri poeti ma a loro nessuno crederà se tu tacerai quello che sai. E il poeta tacque e costruì il tempio. E agli altri poeti per lungo tempo nessuno credette. Perché non era cristallina la bellezza dei loro versi né vittoriosa la loro gloria. Ma la verità è che l'avete ucciso. L'avete ucciso, Danai, il più sapiente, l'usignolo delle muse, che non faceva del male a nessuno. L'avete ucciso, Danai, il più sapiente, l'usignolo delle muse, che non faceva del male a nessuno. L'avete ucciso, Danai, il più sapiente, l'usignolo delle musee. Grazie a tutti. 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 Difficile trovarla adesso con questa accusa infondata che mi pende sulla testa e lo smarrimento che chiunque di voi proverebbe in una situazione simile. E tuttavia devo sforzarmi di cercare la verità. Per quanto questo possa essere rischioso o inutile. E allora? Mi è chiaro che non è chiara l'accusa. Già che con tutta la chiarezza possibile so di non aver commesso alcun gesto infamante. tradirvi? ma mandare un messaggio. e non una lettera è stata trovata, non un messaggio, non una riga, nulla. pure. ci siamo dovuti scambiare una garanzia. una prova del fatto che ci saremo fidati. io di lui, io di lui di me. ma quale garanzia ci saremo potuto scambiare? un giuramento? ma cosa vale il giuramento? di un traditore? molto, molto, molto denaro. è possibile prenderli? senza essere visto? come avrei potuto? poi nasconderli? costodirli? tenerli? è sicuro. se ne sarebbero accorti tutti? prima o poi? mi ero costretto? 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 di voi. impossibile. come farli entrare dalle porte? non è mio potere aprirle o chiuderle. solo i loro padroni possono farlo. arrampicandosi su delle scale? molto difficile con tutte le sentinelle che ci sono. aprendo una breccia nel muro, ve ne sareste accorti tutti. Stiamo parlando di un accampamento. Tutti vedono tutto e sono visti da tutti. Sarebbe stato del tutto impossibile per me fare tutto quello. Ed altronde, perché mai avrei dovuto desiderare di fare tutto quello? Ecco, anche se fosse stato il mio potere fare tutte quelle cose, che cosa ci avrei guadagnato a farle? Brama di potere? Su di voi o sui barbari? Su di voi sarebbe insensato. Siete così numerosi e di così lustri stirpi. Mi sono toccate in sorte tutte le virtù, gloriosi del vostro passato. Ricchi delle vostre ricchezze, eroi per le vostre imprese, sovrani delle vostre città, saldi nel vostro pensare. Sui barbari, allora? Avrei dovuto fare tutto quello per avere potere sui barbari? Ma chi di loro me l'avrebbe mai riconosciuto? Io, un greco, da solo, come avrei potuto prendere il potere su una massa di barbari? me l'avrebbero consegnato loro, riconoscenti per il mio tradimento? Che sciocchezza. Nessun uomo che possa essere sovrano di se stesso preferirebbe essere schiavo. nessuno scambierebbe il migliore tra i poteri con la peggiore delle infamie. Qualcuno allora dirà che ho ordito tutto questo per sete di ricchezza, di denaro. Ma io posseggo tanto denaro quanto penso sia giusto possedere. e non ho bisogno di averne di più. Di molto denaro hanno bisogno quelli che molto spendono. Quelli che non sapendo accontentarsi dei piaceri della vita ne diventano schiavi. Ma io non sono così. Mi chiamo a testimone tutta la mia vita passata. Mi conoscete? Siete i miei compagni? Io non sono così. E di sicuro un uomo anche solo appena intelligente e non compierebbe mai un simile misfatto per procurarsi onore. Come potrebbe ottenere onore un uomo che tradisse la Grecia? E poi io non ho bisogno di procurarmi onore. Io sono onorato dai più onorevoli tra gli uomini per le ragioni più onorevoli. Da voi per la mia sapienza. Dunque ero senza movente. E non c'è uomo al mondo che possa compiere un crimine senza alcun utile. Senza alcuna ragione. Tutti fanno tutto per trarre un utile o per sfuggire a un danno. Al di fuori di queste due ragioni è follia. E io non potevo aspettarmi alcun utile. E d'altra parte non avevo nulla da temere. Perché mai avrei dovuto, tradendo la Grecia, tradire me stesso? I miei genitori. Gli amici. La memoria dei miei antenati. I luoghi sacri ai miei avi. La patria. Pensate a come la mia vita sarebbe diventata invivibile se con successo avessi commesso il crimine di cui mi accusate. Dove sarei potuto andare? In Grecia? Ed essere punito da chi avevo tradito? Chi mi avrebbe risparmiato? Forse allora sarei dovuto restare tra i barbari. Rinnegando i valori più sacri. Privato dell'onore più alto. Trascinandomi nell'ignominia. Buttando via tutto quello che avevo guadagnato in nome della virtù. E tutto questo? A causa di qualcosa che io stesso avevo compiuto. E non c'è infelicità maggiore per l'uomo di quella che deriva da lui stesso. Lo vedete? Tradire la Grecia era per me impossibile. Voler tradire la Grecia. Insensato. E tuttavia Odisseo mi accusa. Come può? Uno come te accusare uno come me. Tutti dovrebbero sapere che tipo di uomo sei. Tu che formi le accuse ingiuste contro chi non le merita. Hai delle prove? O le tue sono solo supposizioni? Sei delle prove vuol dire che hai visto qualcosa. O che sai qualcosa perché sei un complice. O che hai saputo qualcosa da qualcuno che era un complice. Se hai visto dimmi cosa hai visto. E dove? E quando? Se sai perché eri coinvolto nell'affare allora sei colpevole quanto me. Se hai saputo qualcosa da qualcuno che era un complice allora dici chi è. fallo venire avanti. Chiamalo a testimoniare contro di me. Fino ad ora tu non hai esibito testimoni. Io non ho esibito testimoni. È la mia parola. Contro la tua. E questo è il momento di mettere in campo dei testimoni. Tu i tuoi. Io i miei. Ma tu non ne hai. E io non ne posso avere. Perché come potrei esibire un testimone di qualcosa che non è successo. Dunque tu mi accusi non perché sai ma perché pensi di sapere. Supposizioni. Che uomo ho sfrontato. Osi accusare me di un reato che può costarmi la vita. E lo fai fidandoti delle tue opinioni. Quello sono capaci di farlo tutti. Odisseo. Avere delle opinioni su qualunque cosa. Ma se tu fossi davvero più saggio degli altri sapresti che solo la verità e non le semplici opinioni è davvero degna di fede. E un'ultima cosa. Nelle tue invettive tu mi descrivi come un uomo molto lucido e contemporaneamente come un pazzo. Quando dici che sono un uomo abile, scaltro e ingegnoso mi descrivi come un uomo lucido. Quando dici che ho tentato di tradire la Grecia mi accusi di follia. Ma vedi, Odisse, un uomo non può essere lucido e folle allo stesso tempo. Se io sono un uomo lucido non posso aver pensato di tradire. E se vi ho traditi non sono evidentemente un uomo lucido. In entrambi i casi tu sei un bugiardo. Io potrei accusarti di molte colpe. Vecchie e nuove. Potrei, ma non voglio. Io voglio essere assolto da questa accusa non grazie alle tue colpe. Ma grazie ai miei meriti. E in questo io sono così diverso da te. Quanto a voi, giudici. Voglio dirvi una cosa che mi è in odio dire. E che non direi se non mi trovassi qui come accusato. Voglio rendervi conto della mia vita passata. E se dovrò richiamare alla vostra memoria alcune delle buone cose che mi è capitato di fare. Vi prego di perdonarmi. La prima e principale buona cosa che ho fatto è che in tutta la mia vita, dal principio alla fine, ho vissuto senza colpe. Nessuno potrebbe citarvi un solo crimine di cui ho se stato ritenuto colpevole. Persino qui e oggi mi si accusa. Ma senza portare prove. Più che un'accusa è un'ingiuria. Senza mentire posso aggiungere che non solo ho vissuto senza colpe. Ma l'ho fatto mettendo la forza della mia mente al servizio dei greci. Di tutti i greci. Quelli che sono oggi. E quelli che saranno domani. Volevo rendere ciò che era insopportabile. Sopportabile. Ciò che era senza regole. Ordinato. Per questo i greci mi devono la scienza militare. Necessaria per accrescere il proprio potere. E le leggi scritte. Necessarie per custodire ciò che è giusto. Per questo mi devono la scrittura, strumento della memoria. E i pesi e le misure, strumenti del commercio. E per loro che ho inventato i numeri con cui contare il denaro. Le fiaccole con cui mandare i messaggi. Gli scacchi. Con cui passare il tempo senza affanni e dolore. L'ho detto. Non mi fa piacere parlare di tutte queste cose. Ma dovete capire che a questo genere di cose che io dedico la mia mente e il mio talento. Non ad azioni spregibili e malvace. Io non ho mai fatto del male a voi. Perché voi volete fare del male a me? Non do noia ai giovani, mi sforzo di servire ai vecchi. Non ho invidia per chi è fortunato. Ho pietà per chi non lo è. Non disprezzo la povertà, non tengo la ricchezza in maggior conto che la virtù. Non sono inutile in assemblea né codardo in battaglia. Eseguo gli ordini e obbedisco a chi comanda. Lo so. Non dovrei essere io a lodarmi così. Lo faccio per difendermi. Sono costretto a farlo. Perché mi accusano. E un'ultima cosa. A voi. A voi. Che mi giudicherete. Se fosse la folla a giudicarmi, allora mi sarebbero utili le preghiere e le intercessioni di quelli che mi sono amici. Ma di fronte a voi che siete considerati e siete i più nobili tra i greci, non servono preghiere. Non serve pietà. Stava a me convincervi. Nel modo più limpido. Di ciò che è giusto. Di ciò che è vero. Mi auguro che presterete fede ai fatti, non alle parole. Mi auguro che ascolterete le accuse, ma non sarete sordi alle mie argomentazioni con cui le ho confutate. Perché è grande. E il rischio che è sbagliato. Finiate per distruggere la vostra fama con un gesto infame. Allora sarebbe meglio la morte per voi. Perché nella morte la vita semplicemente finisce in mano. Nel disonore. La vita muore. Se mi condannerete ingiustamente, molti lo verranno a sapere. Tutti i greci mi conoscono e tutti i greci sapranno. Non sarà allora il mio accusatore a rispondere dell'infamia, ma voi, che avevate il potere di giudicarmi, sarete responsabili non solo davanti a me e alla mia famiglia, ma davanti a voi stessi. Perché non potrete nascondervi dall'aver commesso un gesto terribile. impio, ingiusto, illegale. Non potrete dimenticare di aver mandato a morte, senza una prova, un uomo che combatteva al vostro fianco, un benefattore della Grecia, un greco tra i greci. E' tutta via la mia famiglia. lo uccisero e da allora Palamede è diventato simbolo dell'ingiustizia, eroe che incarnava in qualche modo tutti gli innocenti condannati per errore, per malafede, per volontà politica. E tuttavia questa storia riascoltata da lontano, a distanza di secoli, sembra raccontare qualcosa di più ancora. Ha un po' il profilo di una lezione da cui possiamo imparare qualcosa sui greci e anche su di noi. A ben vedere racconta dello scontro ferocissimo fra due élite intellettuali, tra due clan dell'intelligenza. Da una parte quello omerico, simboleggiato da Odisseo, che era un sapere che si rifaceva a una tradizione religiosa, ai vecchi miti e che poggiava sicuramente sulla forza quasi magica della poesia. E dall'altra parte il sapere di Palamede, che era un sapere più laico, più tecnico, più empirico, in un certo senso più moderno. Non bisogna dimenticare che Palamede era ricordato come l'inventore della scrittura. E la cultura america veniva invece proprio da un contesto di pura oralità, un popolo che non disponeva di scrittura. La poesia e la memoria erano uno strumento per tramandare il sapere e i poeti erano i sacerdoti di questo sapere. Li vedete di due blocchi contrapposti, grandissima distanza, grandissima differenza. Palamede lo disse. Di questo scontro durissimo noi sappiamo una cosa con certezza, che a vincerlo fu l'intelligenza omerica, che per almeno tre secoli si prese la mente dei greci. E in quei tre secoli il nome di Palamede scomparve perché i vincitori non si limitano a vincere ma vogliono cancellare i vinti dalla storia. Sappiamo però anche un'altra cosa. Ci fu un momento in cui anche il modello omerico entrò in crisi, a cavallo fra il quinto e il quarto secolo, sotto la pressione di nuovi saperi, i nuovi eroi del sapere. Forse nel modo più rotondo e completo lo troviamo in Platone, il primo uomo che si chiese ufficialmente davanti a tutti se fosse proprio il caso di allevare i giovani con queste storie mitologiche, fiabe, magie e non fosse piuttosto il caso di educarli col sapere di cui gli uomini ormai erano diventati capaci. Basta con queste storie, con queste fiabette. Insegniamo ai giovani i nomi delle cose, ora che li conosciamo. Ed è in quel periodo che il nome di Palamede, guarda caso, rispunta in superficie. Una cosa che noi sappiamo è che ad esempio i tre grandi tragici greci, Eschilo, Sofocle ed Euripide, dedicarono ciascuno di loro una tragedia a Palamede, intitolata proprio Palamede. E benché siano perse, le abbiamo perse, non le conosciamo, sappiamo con certezza che erano tre tragedie in difesa di Palamede. Del testo di Euripide conserviamo un verso perché molto tempo dopo un altro autore lo citò. Il verso è inequivocabile, molto chiaro e recita così. Avete ucciso, avete ucciso Danai, il più sapiente, l'usignolo delle muse che non aveva fatto del male a nessuno. Dunque una guerra vinta in un primo momento dalla cultura america ma che non finì lì e andò avanti per tanto tempo. Ci possiamo perfino chiedere in certo modo se non sia una guerra che abbiamo continuato a combattere per secoli, anche noi, anche la nostra civiltà. Non so, prendete il caso di Galileo e la Chiesa, quello scontro lì. Anche lì di nuovo c'era da una parte un'elite intellettuale che si rifaceva a un sapere religioso, antico e dall'altra parte il sapere di Galileo, cioè un sapere laico, scientifico, empirico, apparentemente più moderno. Non sembra di trovarsi di nuovo ancora una volta davanti al litigio fra Palamede, Odissea o i lupi, il Dio che li manda un dono. Sembrano sempre lì a combattere. Ma perfino oggi, nel tempo che viviamo noi oggi, col trionfo della cultura di questi tempi, vogliamo chiamarla digitale, col trionfo degli eroi di questa cultura, dell'elite intellettuale che l'ha inventata, che l'ha coniata, una cultura legata a una distribuzione del senso sulla superficie, alla velocità, a una certa efficienza, forse perfino a una certa imprecisione, allo scontro di questa civiltà con quella che era la civiltà e l'elite intellettuale che dominava giusto fino al giorno prima, una elite intellettuale ancora legata a un culto della profondità, della pazienza, della lentezza, con questa ostinazione a credere in una dimensione spirituale dell'uomo. Non è ancora sempre Palamede contro Odissea. Guardate che è sorprendente, perché ogni tanto è come se i greci fossero riusciti a coniare un gioco che poi non abbiamo mai smesso di giocare. Hanno inventato la scacchiera, hanno scelto i pezzi, hanno stabilito delle regole, hanno incominciato ad abbozzare delle strategie e adesso noi siamo ancora qui, secoli dopo, siamo chini su quella scacchiera e giochiamo quel gioco. È sorprendente perché quello era un popolo piccolo, cioè alla fine era un popolo molto meno ricco, molto meno potente di altri che avevano vissuto nel mondo, avevano dominato il mondo. È un mistero come siano riusciti loro a creare un'orma da cui noi non siamo poi mai usciti. Ed è un mistero a cui torniamo spesso, non l'abbiamo mai abbandonato. Torniamo a dialogare con loro per abitare quel mistero. Continuiamo a studiare la loro lingua, continuiamo a tradurli, continuiamo a leggerli, a interpretarli, a metterli in scena. È un dialogo che non finisce mai perché è un tempo che noi amiamo dedicare a quel mistero. Ci piace tornare là perché è un modo anche per noi di tornare alle nostre radici. Ci piace esplorare il viaggio di quei greci perché spesso è il nostro stesso viaggio. Ci piace meravigliarci davanti al loro mistero perché sempre e ancora una volta il nostro mistero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.